Uno strumento amministrativo per aiutare in modo più equo le famiglie, sostenendo quelle che hanno più carico familiare e maggior numero di figli ed evitando inutili dispersioni a pioggia di aiuti. È lo scopo del fattore famiglia di cui si parla da diversi anni e che è stato realizzato anni fa nel comune veronese di Castelnuovo del Garda dall'allora sindaco Maurizio Bernardi in collaborazione con l'Università di Verona. Il fattore famiglia è un indicatore della situazione economica equivalente, un ISEE raffinato, che vuol dire che include delle informazioni relative alle famiglie che non sono comprese all'interno dell'ISEE e che permettono di identificare con maggiore precisione le famiglie che sono in stato di effettivo bisogno. Per cui riduce il rischio di includere delle persone che non dovrebbero essere incluse e ad avere accesso al servizio. Su questo naturalmente con grandi benefici per i fruitori dei servizi che si sentono trattati in modo giusto. Il fattore famiglia si parla da tanto tempo, poi di fatto nel territorio veronese una realizzazione c'è stata nel comune di Castelnuovo. Sì, il comune di Castelnuovo ha co-creato il fattore famiglia, perché il fattore famiglia è di fatto un software che poi accompagna le amministrazioni e rende l'attuazione del fattore famiglia, diciamo, semplifica il processo di attuazione del fattore famiglia. Cavallo di battaglia nelle ultime elezioni amministrative del popolo della famiglia, il fattore famiglia è diventato un obiettivo concreto per l'amministrazione sboarina che a fine 2017 si è impegnata ad applicarlo nel comune di Verona. Penso che il processo sia ad uno stato avanzato, quindi dovremmo riuscire a partire anche con quest'anno per accompagnando l'erogazione dei servizi per quanto riguarda l'accesso all'asilo nido, alla scuola materna, al trasporto scolastico e anche ai servizi di mense.